ben trovati a un nuovo video di South Park dobbiamo aprire con la chiave d'ottone questa porta ovviamente dobbiamo riuscire ad arrivare a Craig quindi qualcuno l'hanno perfetto vediamo se riusciamo a fare questa cosa simpatica perfetto direi utilizzando la mia bella scorreggina ho sistemato questi simpatici belli carota oh 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 Ora ti resta qua, puse a mandare Andiamo un po' Vabbè, solita Tintura Guardate qui Qui ci vuole quella d'argento Quindi Vediamo un attimo C'è qualcosa che non ho fatto Ok, quando Qui non c'è nulla Dobbiamo tornare di là Ovviamente abbiamo ottenuto La chiave d'ottone Poi dobbiamo prendere quella d'argento E come ultima Arrivare La crae Forse No Ma In realtà credo di aver fatto tutto Ma andiamo Ok, qua mi dice C'è una manina Che mi dice Vediamo No No quindi qua non c'è nulla da prendere vediamo vediamo che non abbia dimenticato qualcosa qua no ma qui non c'è un cavolo andiamo a vedere di qua ma non capisco adesso provo a cambiare personaggio magari devo fare qualcosa la dentro vediamo rimetto batters vediamo vediamo che non credo però no ah si questo avrà un'altra chiave ecco la chiave d'argento quindi abbiamo tenuto la chiave d'argento grandioso non si va di qua ovviamente ho sbagliato giro ahimè eccola ok guardate dove è la chiave d'oro queste cose si possono rompere ma poi si vendono magari alcune cose andiamo andiamo a vedere di raggiungere finalmente ok abbiamo usato la chiave d'oro e qui guardiamoci il filmato ah ok ecco questo è il boss presumo e qui ci farà nero secondo me è il boss boss fight come li vengono chiamati adesso credo guardate 468 porca miseria prima io eliminerei i scagnozzi guardate feel that righteous fury L'Urdo del Draco è molto utile per impedire ai nemici No Mano non sufficiente Non so, non so, non so, non so, non so. I'm going to scare you straight! For now he cast his spell! We gotta stop him next time! Trespassing in the school's halls is testament to trespassing in the office of Principal Victoria Earth South! I'm going to kill you! You're a bad guy! I'm going to kill you for the first time! Haha! Perfect! I'm going to kill you for the next step! Sì, è vero. Ah, brutta roba E' il suo papà che manda in castigo il nostro coglionazzo Perfetto Ci lasciamo con questo video qui Probabilmente non abbiamo ucciso il primo boss del gioco in tempo utile Quindi siamo morti Ok, ci vediamo al prossimo video Con questo è tutto da Luca CSS da Salt Park Siamo già a livello Dopo aver trovato la chiave d'oro del primo boss fight del gioco di Salt Park Il bastone della verità Ciao da Luca CSS Ciao Ciao